Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo tornando a parlare della vicenda dell'acqua contaminata del Gran Sasso. Su questa vicenda è intervenuto oggi il forum abruzzese dell'acqua che da tempo si sta occupando di quanto accade nella captazione idrica da parte dell'acquedotto del Ruzzo. Per Augusto De Santis la ASL doveva bloccare la captazione mentre resta aperto tutto il dibattito sulla messa in sicurezza dei laboratori di fisica nucleare e autostrada dei parchi. Della vicenda che ha riguardato la captazione delle acque del Gran Sasso si continuerà a parlare forse per mesi. È stato un episodio a quanto pare circoscritto a poche ore che però ha provocato molto allarme. L'ASL secondo voi ha fatto bene ad adottare il provvedimento che ha adottato di restrizione però il problema lì resta ed è un problema di messa in sicurezza di quella zona dove insiste l'autostrada da un lato e i laboratori del Gran Sasso dall'altro. Probabilmente ci sono stati due episodi diversi di contaminazione, una col toluene il 4 e 5 con concentrazioni basse per la potabilità ma maggiori rispetto ai limiti di legge per l'ambiente. Poi c'è stato il fenomeno lotto, circoscritto solo all'otto dell'acqua che puzzava sostanzialmente, aveva cattivo odore e per questo l'ASL ha chiuso. Perché c'era cattivo odore non si sa. Io voglio ricordare che ci sono più di 100.000 sostanze chimiche, l'Arta ne ricerca per ovvie ragioni 40 e quindi ci possono stare sostanze non identificate. Noi pensiamo che nei laboratori bisogna fare un ragionamento, noi siamo assolutamente per la ricerca, bisogna fare ricerca, però bisogna fare ricerca compatibile col territorio. Ora nei laboratori sono stoccate 1000 tonnellate di acqua raggia e 1250 tonnellate di trimetilbenzeno, un idrocarburo neurotossico. Ora mettere questi materiali dentro una montagna piena d'acqua comporta gravissimi rischi perché in caso di incidente rilevante i laboratori sono classificati ufficialmente come impianto a rischio di incidente rilevante per legge, metterlo dentro una montagna piena d'acqua secondo noi non è la cosa da fare. I lavori di messa in sicurezza che sono stati fatti in passato a questo punto non danno la necessaria tranquillità per quanto riguarda l'acqua potabile? Beh diciamo che è stato purtroppo fatto un esperimento, sono stati fatti più esperimenti in questi anni e sono tutti falliti, cioè il diclorometano ad agosto scorso è andato a finire nell'acqua con pochissima quantità e ce lo siamo ritrovati nell'acqua, adesso il toluene, poi questa sostanza misteriosa che ha determinato il cattivo odore, precedentemente anche il cloroformio c'è in tracce in alcuni mesi dell'anno, insomma una condizione che ci dice che quegli 80 milioni di euro che sono stati spesi, intanto non sappiamo se sono stati spesi veramente bene, diciamo così, ma sicuramente non hanno risolto il problema. E si è svolta ieri sera la prima riunione dell'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso che vede la partecipazione di WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, Arci, Pronatura Laga, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia e FIAB. Riunione nella quale sono state illustrate le prossime iniziative e soprattutto le tre direttrici principali lungo le quali si muoverà l'osservatorio, verificare cosa è successo tra l'8 e il 9 di maggio e nei giorni immediatamente precedenti, avviare un confronto con gli enti competenti per comprendere cosa non funziona nel sistema di approvvigionamento idrico dal Gran Sasso, comprendere quali sono gli attuali programmi per la messa in sicurezza definitiva delle acque del Gran Sasso. Tra le prime iniziative un confronto pubblico con Arta, Asl e Ruzzo Reti, RSPA. Ed ora veniamo a Pescara con il prossimo servizio, taglio del nastro per la nuova caserma della Guardia di Finanza, ospiterà il reparto operativo aeronavale e la stazione navale delle Fiamme Gialle. La struttura sul lungovare Papa Giovanni XXIII è stata intitolata alla memoria del brigadiere Ermando Parete. Un'area complessiva di circa 7.500 metri quadrati su quattro livelli, 18.000 metri cubi circa di volumi ed un'area circostante recintata di 5.000 metri quadri, capace di ospitare in sosta 80 automezzi. Sono i numeri della nuova caserma della Guardia di Finanza sul lungomare Giovanni XXIII a Pescara, che ospita con dotazioni tecnologiche all'avanguardia sia dal punto di vista delle telecomunicazioni che del risparmio energetico, il reparto operativo aeronavale, il nucleo di polizia tributaria e la stazione aeronavale delle Fiamme Gialle Pescaresi. La nuova opera, a pochi passi dal porto turistico marina di Pescara, è stato il frutto di un iter travagliato iniziato nel 1999, passato per contenziosi con le ditte aule di giustizia e polemiche sull'impatto ambientale. Oggi è arrivato il giorno del taglio del nastro, che pone fine anche a un contratto di locazione passiva con i privati, con oneri annui pari a 270.000 euro, dando spazi adeguati ai militari che operano nella caserma, come ha ricordato il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Flavio Agnello, aggiungendo che si tratta di una struttura imponente ma allo stesso tempo ben armoniosa dal punto di vista architettonico. La nuova caserma della Guardia di Finanza è stata intitolata alla memoria del vicebrigadiere del corpo, Ermando Parete, nativo di Abbateggio in provincia di Pescara, ma pescarese di adozione, che in vita si è adoperato per far conoscere gli orrori della tragedia dell'Olocausto e scomparso lo scorso anno. Nel corso della cerimonia è stata ricordata anche la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Il soccorso alpino dei finanzieri ha avuto un ruolo fondamentale nei primi soccorsi, nel salvataggio dei supestiti e nel recupero delle 29 vittime. È stata una giornata particolare anche per il maresciallo capo Lorenzo Gagliardi, il primo ad arrivare dopo la valanga del 18 gennaio. Sicuramente oggi ricordiamo quei momenti sia felici che tristi di quella vicenda. Sicuramente sono belli quei ricordi dove siamo riusciti tutti noi soccorritori a salvare quelle 11 persone, però sono anche tristi per quelle 29 vittime che purtroppo non siamo riusciti a salvare. Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi, abruzzese di nascita, si è detto orgoglioso di aver tagliato il nastro della nuova caserma nella sua regione ed ha lasciato una dedica come buon auspicio per il lavoro per la collettività che la struttura si è chiamata a svolgere. Ho scritto che il comandante generale della Guardia di Finanza è sempre molto felice di inaugurare le caserme, ma oggi è anche da abruzzese, se mi consentite, inaugurare una caserma della mia regione di appartenenza, della regione in cui io sono nato, questa soddisfazione è ancora maggiore ed auguro a tutto il personale di raggiungere dei risultati sempre più evidenti e sempre maggiori rispetto al passato. Le province stanno attraversando un momento complesso in termini finanziari e i presidenti sono pronti a gesti eclatanti il prossimo 18 maggio se non dovesse essere accolti in Parlamento gli emendamenti al decreto sugli enti locali. Le province sono in default. A Roma, il 18 maggio, i presidenti riconsegneranno le fasce se alla Camera non saranno accolti gli emendamenti al decreto legge urgente numero 50 sugli enti locali. La manovrina, come è stata denominata, dovrebbe portare nelle casse delle province, riformate da Del Rio ma non abolite dal riferendum costituzionale del 4 dicembre scorso, almeno 220 milioni di euro per lo svolgimento delle competenze rimaste, strade edilizia scolastica principalmente. Di questi, 100 milioni andrebbero spesi per la viabilità. Ma sono pochi, lamenta Mario Pupillo Acchieti, durante il workshop promosso dall'Associazione Costruttori. Ne occorrono 650, altrimenti, dice Pupillo, le province non potranno pagare neppure le utenze delle scuole. Il governo li troverà per l'ultimo salvataggio dell'Alitalia, ne ha spesi altrettanti. La legge del Rio aveva un obiettivo, quello di dare a delle province dei compiti particolari, delle funzioni che si chiamano fondamentali, che sono la manutenzione, la costruzione di strade e la manutenzione e costruzione di scuole, in più una piccola parte dell'ambiente. Purtroppo questa riforma che doveva portare la provincia a interessarsi di temi particolari è fallita, in quanto già nel 2015 la legge di stabilità, insieme alla riforma, non ha dato il budget necessario per poter trasferire la provincia da un tipo di attività all'altra. Quindi noi siamo di fronte a delle responsabilità che poi si traducono anche in pericolo per i nostri dirigenti, per i nostri operatori, responsabilità che sono gravi di manutenzione scolastica e stradale e dall'altra parte di non avere i fondi necessari come testimoni del Sose. Il Sose ha detto che la provincia di Chieti ha un deficit di 8 milioni di euro, all'incirca lo stesso deficit è quello della provincia di Pescara. Allora noi non possiamo attuare una legge se questa legge non è finanziata. I 10 milioni destinati alla funivia, opera che avrebbe dovuto collegare la città di Teramo all'università, andranno altrove. Dopo il non ufficiale al progetto del Comune di Teramo, la Regione con una delibera del 9 maggio ha rimodulato i fondi del Masterplan, redistribuendoli su varie voci di spesa sempre riguardanti l'asse mobilità e trasporti. Una vicenda gestita molto male dall'amministrazione comunale di Teramo, commenta il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, che da subito ha assunto una posizione pregiudiziale senza avviare un tavolo di trattativa con proposte alternative possibili. Prosegue poi Di Sabatino, che ha rifiutato il dialogo con l'università impedendo al rettore di illustrare progetto e motivazioni in consiglio comunale, che ha preferito giocare di demagogia chiedendo che i finanziamenti venissero utilizzati per le scuole, ben sapendo che i fondi destinati ad un asse, in questo caso alla mobilità e alla trasportistica, non possono essere spostati su un'altra voce. Il Movimento 5 Stelle, con una interrogazione diretta al presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, chiede che le aree interne del Pescarese, oltre 16 comuni, non vengano escluse dalla possibilità di recepire fondi europei importanti per dare un futuro a zone già provate dalle recenti calamità. Una delibera della Giunta regionale esclude 16 comuni dell'area interna del Pescarese dalla possibilità di avere finanziamenti europei. Il Movimento 5 Stelle chiede la revisione di questa delibera per offrire un'opportunità di sviluppo fondamentale per quei territori. Sono risorse fresche che vanno a valorizzare un territorio. Spiegabilmente abbiamo trovato oltre 16 comuni esclusi da questa programmazione. Per citarne alcune parliamo del comune di Alanno, del comune di Catignano, di Vicoli, Torre dei Passeri, Loreto a Prutino, Penne, Picciano, tutti comuni importanti che si vedono abbandonati dalla visione programmatica e di pianificazione della Regione Abruzzo. Non solo, gli stessi comuni sono stati esclusi dai vari decreti sisma adottati dal Governo centrale a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato la nostra regione a fine 2016 e inizio 2017. La Regione Abruzzo, la Giunta regionale, ha proposto una legge per istituire la nuova riserva fiume-nora, riserva naturale, comprendendo solo il territorio di Cepagatti. Noi pretendiamo che venga rivista la perimetrazione di questo territorio, includendo anche Catignano, Vicoli e Carpineto della Nora, perché questi comuni hanno una qualità delle acque notevolmente superiori e perché ci sono degli insediamenti naturali, architettonici molto importanti e interessanti e quindi è questa la programmazione che dovrebbe avere la Regione Abruzzo. Non possiamo non ricordare che io presentai una proposta sempre per valorizzare le aree interne di questi territori per le istituzioni delle città del Tartufo e delle strade del Tartufo. Purtroppo la Regione Abruzzo non la prende ancora in considerazione e ancora la calendarizza in Regione Abruzzo. E poi non possiamo non ricordare che l'accessibilità è gravemente compromessa. Queste aree sono impraticabili, non ci sono strade completamente dissestate e quindi si stanno lasciando così morire lentamente queste aree interne. Chiedevano con insistenza soldi per acquistare calzini e per dare indicazione su stalli liberi nel parcheggio dello stadio Bonolis di Teramo in occasione della Fiera dell'Agricoltura. Per questo ieri pomeriggio, a seguito di una serie di segnalazioni e dell'intervento della polizia, il questore di Teramo ha emesso otto fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno a Teramo per tre anni a carico di altrettante persone, tutte provenienti da Napoli e provincia e tutti pregiudicati con precedenti di associazione per delinquere, furto, ricettazione, contrabbando, riciclaggio e spaccio di stupefacenti. Dopo i rilievi hanno dovuto così lasciare la provincia Teramana, accompagnati dai poliziotti, sino all'ingresso dell'autostrada A24. E ora ci spostiamo all'Aquila, è scaduto oggi il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali. Vediamo. E' ancora in corso la consegna delle liste dei candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune dell'Aquila. 24 le liste previste, ma il numero esatto sarà noto solo nelle prossime ore, quando le operazioni saranno concluse. Alle 12 infatti sono state chiuse le porte dell'ufficio di ricevimento, ma i delegati in fila all'interno sono rimasti ad attendere il proprio turno. Per il grande afflusso dell'ultimo minuto i funzionari del Comune si sono dovuti dividere i compiti. Le liste infatti sono state ricevute e depositate anche in una scrivania improvvisata nel corridoio. A vigilare sulle operazioni anche il segretario comunale, il dottor Pirozzolo. Come ogni anno dunque, le liti, le rinunce, i problemi dell'ultimo minuto hanno creato la solita calca e confusione per la presentazione delle candidature. Molti delegati, infatti quelli più navigati specialmente, si sono messi in fila di fronte alle porte di Villa Gioia già dalle 7 di questa mattina. Domani il Giro d'Italia proderà in Abruzzo con la tappa Montenero di Bisaccia-Bloccausa. Chieti, ultimi preparativi per il passaggio della Carovana Rosa. Chieti si prepara ad accogliere la tappa numero 9 del Giro d'Italia-Montenero di Bisaccia-Bloccaus di 149 chilometri, con gli ultimi 13 in salita e pendenza fino al 14%, tra le più dure della centesima Corsa Rosa. Ancora lavori per gli ultimi asfalti sui 10 chilometri di percorso cittadino, ma sono già stati stabiliti i divieti di sosta e le limitazioni al traffico per domenica 14 maggio. La Carovana Rosa sarà in città dalle 14 in Piazza Trento e Trieste e alle 14.30 in Piazzale Marconi. Il passaggio della tappa è previsto in città tra le ore 15 e le ore 15.30. L'assessore alla viabilità Mario Colantonio ricorda l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle strade attraversate dal percorso di gara, dalle 7 di domenica mattina fino alle 4 del pomeriggio. Anche il transito è vietato durante l'arrivo della tappa. I cittadini avranno qualche disagio perché dalle 7 di mattina sono posti tutti i divieti di sosta con rimozione sulle strade, sui tratti viari che sono interessati dal passaggio e mi raccomando appunto del rispetto in quanto avremo dalla buon'ora due carriattrezzi in servizio a fare gli spostamenti dove necessita. Per cui i tiatini che rimangono in città sono pregati già dal sabato sera a provvedere a parcheggiare la macchina in altre postazioni della città dove sicuramente troveranno posto. Penso che la città sarà molto interessata a questa vetrina che ha nuovamente grazie anche all'interessamento, questo è un ringraziamento che devo fare perché la presenza di formighetti in questa città è sicuramente una presenza forte e stimata nell'ambiente del ciclismo nazionale e questa è la dimostrazione perché il passaggio in città anche questa volta lo si deve al suo grande impegno. Giornata dedicata alla prevenzione del cancro alla mammella oggi a Roseto degli Abruzzi dove in comune si è svolto un convegno sull'alimentazione corretta e nel piazzale antistante Palazzo di Città è stato sistemato il camper della ASRA di Teramo all'interno del quale è possibile effettuare lo screening. Il sindaco di Roseto, Sabattino di Girolamo, padrone di casa per questo convegno, siamo quel che mangiamo questa mattina a Roseto. Sì, per dibattere del ruolo che ha il cibo nella prevenzione delle malattie ma in particolare con riferimento particolare al cancro alla mammella che è una piaga per le nostre donne e io ringrazio la ASL di Teramo per aver scelto Roseto per fare questa iniziativa così bella, così qualificante e ringrazio il Dottor Capone in particolare che ha curato l'iniziativa, ringrazio i miei collaboratori naturalmente, l'assessore di Bartolomeo, il Presidente del Consiglio Comunale, Assorose, l'Associazione dei Commercianti, c'è stata una bella sinergia con la città anche attraverso di loro, naturalmente l'AIRC che poi è l'anima dell'iniziativa. L'AIRC ogni anno raccoglie milioni e milioni di euro per destinarli poi alla ricerca. La mammografia, sul camper c'è un mammografo, quindi la mammografia è l'esame con cui si fa lo screening della mammella. Lo screening lavora sulle persone sane, noi invitiamo le persone sane, quindi il nostro compito è quello di fare una diagnosi precoce, cioè di andare a trovare la malattia quando ancora la malattia non dà segno di sé. Abbiamo da due anni un camper per coprire i territori più disagiati della nostra provincia dove magari la popolazione è un po' anziana e ci sono delle grosse difficoltà a raggiungere i centri di predievo ospedalieri. Questo camper oggi l'abbiamo portato qui anche per sensibilizzare la popolazione perché nonostante il nostro impegno abbiamo ancora una percentuale di non rispondere, cioè di donne che non rispondono al nostro invito che è superiore al 30%. Dopo la consegna del piano di assetto naturalistico il comune di Roseto degli Abruzzi punta alla valorizzazione della riserva del Borsacchio di cui si discute da anni. Per la riserva naturale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi sta per iniziare una nuova vita. Dopo anni di polemiche sul ruolo della riserva naturale e sul rapporto con le attività dell'uomo il comune ha in mano il piano di assetto naturalistico redatto dal commissario l'architetto De Gregoris. Lo strumento, spiega il sindaco di Roseto di Girolamo, sarà al centro di un forum con i cittadini e tutti i portatori di interesse dalle associazioni ambientaliste agli operatori turistici. Per la riserva del Borsacchio inoltre sono in arrivo 40.000 euro di fondi regionali che serviranno per l'istituzione della riserva, per la creazione di un ufficio, la realizzazione di segnaletica per capire la reale dimensione dell'area verde e la ripulitura della fontana dell'accolle. In più ci saranno 92.000 euro di fondi europei grazie ad un progetto denominato la Porta dei Parchi, che vede il Borsacchio unito alla riserva di Penne, a quella di Grotte di Luppe di Sante Maria, di Monte Salviano di Avezzano e Pietra Secca di Carsoli, al fine di creare un sistema reticolare di comunicazione turistica diffusa in cui Roseto rappresenta la porta d'accesso per chi proviene da Nord, un sistema che sarà arricchito anche da una serie di misure comuni. Per Roseto ci sarà la prima dotazione strumentale attraverso una carta guida, un documentario, un corso per acquisire il brevetto ENAC per pilotare droni, la creazione di una mostra itinerante che girerà l'Italia, un progetto di accoglienza turistica per le famiglie e l'acquisto di un drone per le attività scientifiche della riserva. È un piano di assetto naturalistico che appunto contribuisce a qualificare ambientalmente Roseto, l'ho esaminato finora solo sommariamente, lo esamineremo anche con i consiglieri comunali e poi farà tutto il suo iter. Il passo più importante sarà adesso l'apertura di un forum di confronto con tutti i portatori di interesse su questo progetto di piano che è altamente ecologico, altamente ecocompatibile naturalmente perché il suo scopo è che può dare a Roseto un altro strumento di grande sviluppo per il suo turismo, perché la riserva del Borsacchio, lo abbiamo capito tutti, è uno strumento di sviluppo per la città. Esercizi di stile su Biancaneve, il titolo del libro realizzato dagli alunni della scuola primaria di Scoppito all'Aquila. Quando la scrittura creativa diventa parte della didattica nasce Esercizi di stile su Biancaneve e questo è il titolo del libro realizzato dalle classi quinte della scuola primaria di Scoppito dell'Istituto Comprensivo Comenio. Allora il progetto nasce dalla nostra convinzione che la capacità di scrivere non sia una dote innata, ma che possa essere sviluppata nei bambini attraverso dei percorsi di scrittura che li aiutino a conoscere e ad utilizzare le strutture dei testi. Quindi noi attraverso la frequenza di alcuni corsi di scrittura creativa con un professore, il professor Sossi, che è un professore di letteratura per l'infanzia dell'Università di Udine e di Capodistria, frequentando questi corsi col professore abbiamo scoperto proprio la possibilità di insegnare ai bambini in maniera giocosa a scrivere, ad acquisire competenze di scrittura. Che sorprese ci sono state dei testi che sono venuti fuori? I bambini hanno lavorato in questi laboratori che si sono svolti durante il martedì pomeriggio tutte le settimane. La cosa innovativa è che si sono rotti gli schemi tradizionali, non c'è stato un rapporto fra insegnante e bambino tradizionale. Il rapporto è stato piuttosto paritario e in una crescita continua. In che tipo di testo i bambini si sono espressi meglio? Nel testo sportivo, della cronaca sportiva, i bambini maschietti sono andati alla grande perché conoscevano benissimo tutti i termini specifici. Infatti sono stati loro da guida, a noi conoscevano i termini specifici, corner, calcio d'angolo e anche per quanto riguarda la scrittura della canzone rap. Conoscevano benissimo, oltre ai tempi, ritmi, anche la metrica della canzone rap. La cosa innovativa è che i bambini si sono divertiti lavorando. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Pescara, Pescara che domani sarà di scena alle ore 15 all'Ara di Bologna per una gara che non ha molto da dire in termini di classifica e anche oggi, in effetti, nel corso della conferenza stampa pre-gara si è parlato molto di altri argomenti con l'allenatore Zeman, partendo dal suo settantesimo compleanno ieri, ma poi parlando anche di come è andata questa stagione e quali sono i fattori che hanno inciso negativamente. Vabbè, io non riesco a distinguere, a me hanno fatto piacere tutti e sono stati tantissimi. a tutti voglio ringraziare perché non potevo ringraziare a tutti. Io sono a disposizione, io ne ho fatti 30, 40, 50, 60, mi sento sempre lo stesso, ma io non ho mai avuto la voglia di stupire, ho avuto la voglia di fare calcio e per fare risultati e per migliorare i ragazzi che avevo a disposizione. Ma io sono uno che ha voglia di fare calcio, la proposta c'era, il discorso che si è sempre detto che a Natale quelle tre squadre sono retrocessi, io ero convinto che si poteva fare qualcosa, purtroppo non ci sono riuscito, ma ci ho tentato di dare una svolta. Quindi sotto Massimilio accetterebbe? Si sapeva che era difficilissimo, però visto di Pogrotone che ci è riuscito a tirarsi fuori, a tirarsi fuori, a fare qualche cosa, noi non ci siamo riusciti. Secondo me è un problema mentale, non è un problema tecnico, nel senso che io reputo questi giocatori ancora superiori rispetto a quelli che sono a Grotone. Vabbè, io non voglio parlare del mercato, è normale che io vorrei cambiare qualche cosa e poi il discorso dell'età non è tanto importante quanto è importante di trovare i giocatori disposti mentalmente a lavorare, a soffrire, a cercare di migliorarsi. Io penso che anche questo ha influito nel senso che la squadra questa ha vinto campionato, è andato in Serie A e pensavano che hanno risolto tutti i problemi. Non si capisce, non si capisce la importanza di cercare di migliorarsi. Se la squadra basta, siamo in Serie A e siamo arrivati, il problema è che poi mantenere Serie A bisogna fare qualche cosa di più, no di meno. Ed ora alla Lega Pro parliamo di Teramo che continua a preparare allenandosi sul manto in erba naturale di Roseto degli Abruzzi. Continua a preparare il play-out contro il Lumezzane. La prima partita si giocherà domenica 21 in terra bresciana. Ascoltiamo le parole del difensore Carcalis. Ripeto, i play-out è un campionato a parte, quindi non dobbiamo pensare alle partite del campionato. Dobbiamo solo azzerare il campionato che abbiamo fatto perché, come ripeto, è stato un campionato dove abbiamo avuto delle difficoltà senza dubbio, però ora siamo in questa situazione, non possiamo piangerci addosso. Ripeto, prendiamo questa settimana per ricaricare le pile e dalla prossima staremo sul pezzo per affrontare il Lumezzane. Soddisfatto no, personalmente no, perché come penso nessuno di noi è soddisfatto per il campionato che abbiamo fatto. Sicuramente gli obiettivi inizio anno erano differenti, quindi arrivare a questo punto e dire di essere soddisfatto del campionato ti dico no. Ce ne sono penso più di una, perché dopo Ancona penso che avevamo la salvezza a portata di mano. Abbiamo perso parecchi punti per strada, con un pizzico di cattivera in più, un pizzico di lucidità in più. Penso che a questo punto non saremo in questa situazione, però ripeto, non possiamo piangerci addosso. Sappiamo che comunque abbiamo perso molti punti per strada, però ora dobbiamo solo pensare a affrontare queste due partite con la massima tranquillità. Sì, siamo consapevoli che a noi bastano due pareggi, però penso che non dobbiamo entrare in campo con questa mentalità, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Sia la partita dell'andata come quella del ritorno, noi dovremmo scendere in campo per portare a casa i tre punti. Poi a fine partita vedremo. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto. Grazie per aver guardato il video.